Avanti, prego! Buongiorno! Si secca pure! Grazie! Lei è qui per la posizione da cameriere? Si si ma va bene qualsiasi cosa, ho bisogno di soldi Ah allora le andrebbe bene anche di pulire i bagni? Ma in realtà penso di fare qualcosa di meglio E perché mi dici che le va bene fare qualsiasi cosa? Ah quindi andrebbe anche a raccogliere sabbia in spiaggia? Si si ma assolutamente Anche tagliare le... Si si certamente va bene Ma cu... Andrebbe benissimo Avanti, prego! Buongiorno! Piacere! Lei è qui per la posizione da cameriere? Si si, sono qui per candidarmi come cameriere Ho già lavorato E penso di essere una persona adeguata per questo mestiere Piacere! Piacere!